la politica in apertura con le dichiarazioni di Antonio Di Pietro e Beppe Grillo sulle quali si è scatenata una vera e propria bagarre politica. Il fondatore del Movimento 5 Stelle ha proposto il nome di Di Pietro come candidato alla presidenza della Repubblica. Sentiamo Giovanni Di Tota. Se il matrimonio non è, siamo alle presentazioni in famiglia e il rapporto che si sta sempre più rinsaldando tra Beppe Grillo e Antonio Di Pietro somiglia ormai a un'unione di fatto. Cosa certa è che per la prima volta che sia battuta politica o un'investitura con tutti i crismi un molisano viene accostato al Quirinale. Lo ha fatto il leader del Movimento 5 Stelle indicando nel fondatore dell'Italia dei Valori il suo candidato migliore alla presidenza della Repubblica. Ne è nato un bailamme che tiene altissimo il livello dello scontro politico sia in campo nazionale che sulla scena locale anche durante il ponte lungo delle feste di novembre. Tonino ha commesso errori, ha lasciato scritto sul suo blog Grillo, ma è un politico onesto, unico vero oppositore di Berlusconi in Parlamento per questo. Ha sparato che più alto non poteva. Il mio auspicio è vedere Di Pietro salire al colle. Dal canto suo il Tonino nazionale che in queste ore ha dichiarato in alcune interviste di voler sciogliere l'IDV ha risposto a Grillo via blog. Caro Beppe ha scritto Di Pietro hai visto che bel casino che ne sta venendo fuori il tuo paradosso ha poi sottolineato. Accolto nel segno se il mondo si è scatenato contro di noi. Di Pietro è come Berlusconi ha tra gli altri dichiarato il capogruppo dell'IDV alla Camera Massimo Donadi voltando la schiena al suo leader solo per citare una delle dichiarazioni più pacate. Una reazione molto più diplomatica quella della politica molisana. Il responsabile regionale dell'Italia dei Valori ha usato il velluto. Sono orgoglioso da molisano, ha affermato Pierpaolo Nagni, e sul piano politico come segretario regionale del partito che Tonino venga indicato alla presidenza della Repubblica. Una posizione abbastanza simile a quella di Massimo Romano. Sono d'accordo con Grillo, ha commentato il consigliere regionale. Di Pietro è un presidio di garanzia della Costituzione migliore di Napolitano. Poi la precisazione politica. Sono un dipietrista parlamentare, ha spiegato l'esponente di costruire democrazia. Non lo sono affatto sulla linea che l'Italia dei Valori ha sul piano locale. Intanto Antonio Di Pietro ha spiegato che l'asse con i grillini nasce dall'azione di killeraggio politico messa in campo su più fronti a partire dall'ultima puntata di Report, sulla quale parlerà domani, carta canta, annunciato in una conferenza stampa. Se non superiamo lo sbarramento del 5%, ha poi risposto di rimando a Grillo. Spero che almeno in Parlamento vadano ragazze e ragazzi che ho visto crescere attorno al Movimento 5 Stelle. Tonino Dixit è di complimento in complimento. L'Unione fa la forza. E intanto il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, ha annullato gli appuntamenti di domani mattina a Termoli, in cui doveva recarsi ai gazebo di piazza Giovanni Paolo II e tenere una conferenza stampa sul caso Report nella sede del partito e a Portocannone dove era previsto un incontro con la parlamentare Anita Di Giuseppe. Confermati invece gli appuntamenti del pomeriggio a Frosolone e Isernia. Il Movimento 5 Stelle Molise ha definito le regole per le candidature alle prossime elezioni regionali del 2013 Nessuna tessera di partito, fedina penale pulita, non aver già fatto due mandati. Inoltre non saranno accettati coloro che ricoprono un ruolo di rappresentanza nelle istituzioni a qualsiasi livello e chi proviene da un altro partito non potrà candidarsi a queste elezioni, ma dovrà guadagnarsi prima la fiducia del gruppo. Sì ad una alleanza con il popolo delle libertà, ma a patto che non ricandidi Michele Iorio. Lo ha detto il segretario regionale della destra, Giovan Carmine Mancini, in vista delle prossime elezioni regionali. Sergio Di Vincenzo lo ha intervistato. Sentiamo. Riparte la campagna elettorale per le regionali, anche se di fatto non si è mai interrotta. Giovan Carmine Mancini, segretario regionale della destra, in questi giorni stai avendo degli incontri pubblici proprio ieri sera a Venafro. Cosa farà il partito la destra in vista delle prossime elezioni? Continua a costruire l'area di centro-destra reale, dei valori, sociale, che vuole i concorsi pubblici e non le società interinali, che preme il merito, che vuole che i soldi siano dati alle piccolissime e medie imprese molisane e non, come è stato fatto finora, imprese ed imprenditori iper decotti, che prendono i soldi e distruggono le economie diffuse sul territorio regionale. Ma ci sono i margini per un'alleanza con il Popolo della Libertà? Se il Popolo della Libertà si libera appunto di alcuni personaggi che hanno devastato il nostro territorio, senz'altro. Dal resto siamo stati alleati, o meglio, loro sono stati anche nostri alleati in tante regioni, in tante competizioni elettorali, in alcuni territori governiamo insieme. Il problema è che è uno solo, noi non abbiamo né tendenze omicide né tendenze suicide, quindi non vogliamo assolutamente massacrare e uccidere il popolo molisano nel territorio del Molise, né abbiamo tendenze suicide perché le elezioni le vogliamo vincere. Se pensano di candidare e di riproporrere ancora Michele Iorio, non avendo noi queste tendenze, assolutamente non ci stiamo e continuiamo da soli a costruire l'area reale del centro-destra, come già abbiamo fatto alle provinciali di Serna, alle provinciali di Campobasso e al Comune di Serna con un'esperienza vincente, meravigliosa, che ha permesso l'affermarsi di una coalizione autenticamente di centro-destra, allora guidata dall'Avvocato Raffaele Mauro che si è attestato intorno al 14%. Il Direttore Generale dell'ASREM, Angelo Percopo, ha ricevuto lo scorso 31 ottobre un avviso di avvio del procedimento per la eventuale sospensione dalle sue funzioni a firma del Commissario Filippo Basso e del Subcommissario Nicola Rosato, che valuteranno il raggiungimento degli obiettivi rispetto al piano di rientro. Lo ha comunicato la stessa azienda sanitaria, precisando che il Direttore Generale, per quanto di sua competenza, provvederà a comprovare la regolarità degli atti adottati e sottoposti a verifica, nonché dell'intera gestione amministrativa e contabile. E ora torniamo ad occuparci della Solagrital. Una rappresentanza dei lavoratori ha manifestato stamattina davanti alla sede del Comune di Boiano e lunedì è atteso un vertice in azienda con sindacati e commissario liquidatore. I dipendenti non ricevono lo stipendio da cinque mesi. Giuseppe Lanese. Vivere senza stipendio da cinque mesi è già un'impresa ardua, ma non avere un'idea certa sul proprio futuro è ancora più difficile. È in questa delicata situazione che si trovano a vivere i 600 dipendenti, tra diretti e indiretti, della Solagrital di Boiano. Ognuno di loro vanta un credito dall'azienda di circa 6.000 euro. Gli ultimi soldi li hanno presi qualche settimana fa, come saldo dello stipendio di giugno. Ora i lavoratori contano sui 5 milioni di euro programmati dalla Giunta regionale e nelle disponibilità della Fimmolise per una boccata d'ossigeno. Il via libera però non è ancora stato dato. Una rappresentanza dei lavoratori Solagrital ha manifestato questa mattina davanti al Comune di Boiano, mentre gli altri dipendenti erano in fabbrica per impedire il fermo della produzione. La protesta è stata organizzata dal Comitato Uniti per il Lavoro. Hanno partecipato anche il segretario regionale della CGL, Erminia Mignelli, il circolo SEL di Boiano, guidato da Fabrizio Russo, e il consigliere comunale Gianni Mainelli della lista Boiano che vogliamo. Tutti e tre hanno chiesto al sindaco Antonio Silvestri di farsi portavoce verso gli altri amministratori della zona per una battaglia condivisa a difesa dell'industria vicola di Boiano e dei posti di lavoro. Intanto l'opposizione ha chiesto di convocare per il 7 novembre un consiglio comunale sulla vertenza aperto a tutti i sindaci dell'area, mentre lunedì alle 15 è in programma un incontro in azienda tra i vertici della GAM, i sindacati e il commissario liquidatore della Solagrital Danilo Tacchilei. La CGL ha chiesto il passaggio diretto senza licenziamenti di tutti i lavoratori dalla Solagrital alla GAM in modo da conservare i diritti acquisiti dall'anzianità di contratto e così poter accedere anche alla Cassa Integrazione. La GAM però punta a licenziare gli attuali dipendenti Solagrital e a riassumerne la metà. Una proposta inaccettabile per i sindacati. La partita dunque resta aperta, ma oltre al problema posti di lavoro, ha spiegato il segretario della CGL, Erminia Mignelli, occorre un piano industriale che sia credibile. Senza questo passaggio l'azienda di Boiano è destinata a chiudere e la filiera vicola molisana resterà solo un ricordo. Il sindaco di Boiano, Antonio Silvestri, si è poi recato dai manifestanti davanti al Comune e sempre in mattinata ha incontrato a Campobasso il presidente della Regione Iorio per sollecitare l'intervento della Giunta. Capisco il dramma che stanno vivendo i lavoratori e l'intera città di Boiano, ha detto non ho mai abbassato la guardia e sto seguendo l'avvertenza giorno dopo giorno. E dopo la riorganizzazione delle province attuata dal governo non si sopiscono le polemiche. Intanto la provincia di Benevento, accorpata a quella di Avellino, secondo la nuova mappa, mette all'ordine del giorno il referendum per passare con il Molise. Il riordino delle province pare proprio non accontentare nessuno e lotte di campanili a parte che hanno risollevato antichissimi rancori che si perdono nella notte dei tempi. C'è anche chi continua a gridare all'incostituzionalità dell'atto. Intanto la Regione Molise, ormai assodato, diventerà monoprovincia, quella di Campobasso e Isernia, ma al di là del confine campano si riaccende la vecchia ormai nota questione. Benevento, accorpata dal governo ad Avellino, chiede di passare con la nostra Regione. L'ordine del giorno è stato fissato per il 12 novembre dal presidente del Consiglio Provinciale di Benevento, Giuseppe Maria Maturo, l'indizione di un referendum sul distacco dalla Campania e l'aggregazione alla Regione Molise. Sul versante pugliese, invece, il costituzionalista Marco Olivetti, docente all'Università di Foggia, rilancia Il taglio delle province, approvato dal governo, è un'operazione di dubbia costituzionalità. Vero che la riforma non ne prevede la soppressione, afferma Olivetti, ma ne regolamenta la suddivisione e una lettura rigorosa della Costituzione, soprattutto dell'articolo 133, non credo che possa giustificare la procedura. Nel discorso interviene anche il vicepresidente vicario dell'Unione dei Piccoli Comuni, Antonio Saitta. Il decreto ribadisce alcuni degli elementi più critici che il governo aveva provato a far passare nella legge Salva Italia dalla cancellazione delle funzioni fondamentali al mutamento del sistema elettorale delle province, su cui il 6 novembre si dovrà pronunciare la Corte Costituzionale. Il sospetto è, insiste Saitta, che si voglia fare il gioco delle tre carte e dopo aver preso in giro gli italiani con le carte geografiche, si prende in giro anche la Corte facendo credere di aver cancellato le norme incostituzionali che invece sono ancora tutte là. Ma quale gioco delle tre carte, tuone in risposta il ministro per la pubblica amministrazione, Patroni Griffi, non è nello stile del governo. Il decreto legge sul riordino non tocca le funzioni fondamentali delle province e non si occupa del sistema elettorale. È stata lasciata in vita l'opzione per l'elezione indiretta contenuta nel decreto Salva Italia e sulla cui legittimità si pronuncerà la Corte Costituzionale. E sull'abolizione della provincia di Sernia c'è la dura presa di posizione del presidente delle province molisane, Salvatore Colagiovanni, che critica il governo e si appella al Parlamento. Sentiamo Tonino Danese. Non ci sta Salvatore Colagiovanni, presidente dell'Unione delle province molisane, non ha mandato giù la decisione del governo Monti, che con il decreto varato in Consiglio dei Ministri ha deciso di cancellare tra le diverse province anche quella di Sernia. Non vuole affatto deporre le armi. Il governo ha fatto un decreto legge. Il decreto legge deve essere convertito in legge. Attendiamo l'atteggiamento del Parlamento, attendiamo l'esito della Corte Costituzionale che ci sarà il 6 novembre. Io non parlo di risultato. Il governo continua ad essere un cancro per questa nazione. Il Parlamento non ne vuole prendere atto, ne prenderemo atto noi alle prossime politiche. Colagiovanni parla di vizi di incostituzionalità. Il primo è quello di far finire un mandato che il popolo ha dato a alcuni amministratori. Il secondo è quello di passare da lezioni dirette di un presidente e di un gruppo che va a dirigere le province ad un secondo livello che tra i comuni più importanti vanno a nominare i propri rappresentanti. La partita, mentre si gioca, cambiano le regole del gioco. Un governo che sta facendo emergere tutta la propria inesperienza. Insomma, il presidente dell'UProm se la prende con il governo tecnico che dice che sta portando l'Italia nel baratro e non ha rispetto dei cittadini e della Costituzione. Questo governo tecnico che non è legittimato, io ritengo che questo cancro, prima o poi, andrà anche a prendere, a toccare gli organi vitali del Parlamento stesso. O Monti lo si manda a casa, oppure siamo costretti per l'ennesima volta a dire che questa Italia ha una parola così bella che è la democrazia, ma vive in uno stato di dittatura che oggi prende il nome Mario Monti. E cambiamo argomento. Il senatore Giuseppe Astore ha inviato una nuova interrogazione al ministro dei Trasporti, Corrado Passera, per i disagi sulla linea ferroviaria Roma-Campo Basso. Sentiamo. Carrozze sporche, treni antiquati e ritardi ormai all'ordine del giorno, senza contare i disagi per i passeggeri, costretti spesso a viaggiare stipati come sardine. Ancora una volta la rete ferroviaria del Molise finisce al centro delle polemiche con una nuova interrogazione arrivata al ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Corrado Passera. A presentarla è stato il parlamentare molisano Giuseppe Astore con l'obiettivo di porre finalmente rimedio a una situazione di particolare degrado, ha detto il senatore, di partecipazione democratica. Non è più tollerabile lo stato di vergognoso abbandono in cui versa il collegamento ferroviario Roma-Campo Basso ha aggiunto e tocca alle istituzioni assumersi le proprie responsabilità. Astore punta il dito proprio verso le istituzioni accusate di grave insensibilità. Intanto, proprio in queste ore, arrivano nuove segnalazioni di disagi da parte degli utenti rientrati in Molise per il ponte di Ogni Santi. Giuseppe Astore ha annunciato un prossimo incontro proprio con il ministro Passera per affrontare la questione. Mi auguro, ha concluso il parlamentare molisano, che sappia prendere le misure opportune per l'adeguamento qualitativo del servizio ferroviario, il cui gap di efficienza rispetto ad una situazione di normalità contribuisce senza dubbio al mancato sviluppo della nostra regione. E ora andiamo a Termoli. Il parco verrà gestito da un'associazione che ha vinto il bando di gara pubblicato dal Comune. La convenzione durerà per vent'anni. Sono previsti nuovi impianti, l'ampliamento del teatro e la rimessa in funzione della piscina all'aperto. Sentiamo Manuela Ior. Un milione e 587 mila euro per cambiare in vent'anni il parco di Termoli. Sono i numeri del bando vinto da un'associazione temporanea di imprese Vivere il Parco, che si è giudicata la gestione del polmone verde della città, rimasto per anni abbandonato al degrado. Ambizioso il progetto che prevede il recupero degli immobili già esistenti e la realizzazione di nuovi impianti. La piscina all'aperto, che rivive solo nei ricordi dei termolesi, verrà rimessa in funzione. Previsto un intervento al Teatro Verde, che oltre all'incremento di 200 posti, comprende anche la copertura del palco. Verrà realizzata una mini pista per i go-kart, un percorso per le bici, un servizio di bike sharing, un lago artificiale, una fattoria con gli animali in cui organizzare percorsi didattici. Ma non è tutto. Il progetto prevede anche un incremento dei posti auto, oltre che la realizzazione di una pista di pattinaggio e da ballo, con un chiosco bar, un campo da calcio 8, uno di pallacanestro. Sarà inoltre inserita un'area ricreativa polivalente, destinata a sport come pallavolo e basket, oltre al rifacimento in erbetta sintetica dei campi da calcetto. L'associazione verserà al comune, che non riusciva più a gestire la struttura, un canone anno di 61 mila euro. Perché non ha più la possibilità di assumere dipendenti, così come avveniva in passato, tanti anni fa, e perché non ci sono più le condizioni economiche e finanziarie per poter garantire la gestione del parco comunale. Nell'ambito delle strategie che questa amministrazione si è data, così come con la piscina comunale, così come oggi era pubblicato il bando per il terminal bus, non esiste che la strada, insomma, in qualche modo, dell'esternalizzazione, facendo sì che quello che è un costo, una spesa per il comune e per la collettività di termonesi diventi una risorsa. Fedele Leccesi, presidente dell'associazione Vivere il Parco, ha spiegato che si tratta di un'opportunità per i termonesi non solo sul piano dello svago e del tempo libero, ma anche su quello sportivo e culturale, annunciando che i primi interventi in programma riguardano la manutenzione del verde e la sistemazione delle aree gioco, dove saranno realizzati anche trampolini elastici. Prevista anche una sorveglianza del parco 24 ore su 24, per evitare gli atti di vandalismo che si sono ripetuti negli anni. Controlli a tappeto dei carabinieri di Termoli durante il ponte di Ogni Santi. Uno studente 18enne del posto che aveva con sé 120 grammi di marioane e un bilancino digitale di precisione è stato fermato e posto agli arresti domiciliari. In un'altra operazione, con l'ausilio dei NAS di Campobasso, sono stati apposti i sigilli al deposito alimentare di un locale per carenze igienico-strutturali e il titolare di un'attività commerciale è stato denunciato per il cattivo stato di conservazione dei cibi in frigorifero. Il 2 novembre è il giorno in cui si ricordano i defunti e al sacrario del Castelmonforte a Campobasso è stata celebrata una messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre e nelle operazioni di sostegno nella pace. Il ricordo di chi ha sacrificato la vita per la patria, la libertà e la dignità umana. Nel sacrario militare del Castelmonforte a Campobasso è una cerimonia sobria e densa di emozione. Sulle lapidi i nomi di quei soldati molisani caduti nelle guerre, nelle missioni, il loro sacrificio è ancora oggi esempio di virtù. È una giornata in cui noi come militari, e quindi esercitari, ma anche forze armate, ci stringiamo attorno alle famiglie di origine di coloro, dei militari che si sono adoperati per poter garantire la pace in territori martoriati e che purtroppo ci hanno lasciati prematuramente. Le parole di Alberto Pistilli Sipio hanno commosso tutti specie i familiari di due militari da lui portati ad esempio Giulio Ruzzi e Alessandro Dilisio caduti in Somalia e Afghanistan. Questi due giovani vite stroncate ci fanno stare sereni, tranquilli, perché i valori trasmessi da quelli che ci hanno preceduto non sono morti. Pistilli Sipio ha ricordato anche i suoi zii caduti nella prima guerra mondiale, un ricordo che racchiude il senso della manifestazione al sacrario militare. Quando si celebrano queste ricorrenze per lo meno per quanto mi riguarda nelle famiglie dei caduti non c'è il lutto, c'è il ricordo e c'è un ricordo dolce. Ripeto quello che ho già detto, chiese a mia nonna come avesse fatto a superare il dolore di aver perduto tre figli nella guerra e lei mi rispose, caro Alberto, io li ho amati teneramente come madre, però sono serena, perché so che adesso loro sono stretti tra le braccia di una madre più grande, l'Italia. Così invece l'arcivescovo Bregantini nella sua omelia. Questo ricordo diviene e possa divenire sempre di più un invito a far sì che la vita abbia sempre grandi ideali. Oggi le frontiere non sono più fatte di reticolati, di fini spinati su frontiere contro i nemici, ma sono fatte della mancanza di lavoro, della paura che la crisi pone. Ora, questo ricordo ci deve dire aiutaci il Signore oggi a vincere la battaglia del lavoro, della dignità dei nostri giovani, dell'unità delle nostre famiglie, del senso comune e del bene comune del Molise. Ed è stato ricordato al cimitero di Campobasso anche il carabiniere Elio Di Menna, medaglia d'oro al valore militare, ad onorare la memoria del carabiniere di origini campane, ma in servizio nel capoluogo c'erano la vedova e il figlio e i vertici regionali dell'arma. Di Menna rimase ucciso mentre trasportava un detenuto trasferito da Campobasso ad Avellino. Sei uomini armati gli spararono mentre reagiva per impedire loro che prendessero il detenuto, un elemento di spicco della nuova camorra organizzata. E per la ricorrenza dei defunti, come ogni anno al cimitero militare francese di Venafro, si è tenuta una cerimonia per commemorare i tanti giovani transalpini nordafricani che proprio in questa zona persero la vita durante la Seconda Guerra Mondiale. Vediamo com'è andata. Migliaia di giovani francesi provenienti anche dalle colonie nordafricane persero la vita sulla Winter Line durante le battaglie delle truppe alleate contro i nazisti, compresa quella di Monte Cassino. Il comando militare francese si stabilì proprio a Venafro e qui, al termine della Seconda Guerra Mondiale, il generale de Gaulle fece costruire questo sacrario, caratterizzato tra l'altro dalla presenza di un minareto. Molti dei militari caduti erano infatti di fede islamica. Qui abbiamo 5.000 tombe in tutto, suddivise tra cattolici, francesi e musulmani. Poi la disparuta parte di tombe ebrei e dei senegalesi che sono di religioni animiste. Come ogni anno, una cerimonia solenne ha ricordato quel sacrificio. Tra le autorità presenti il console generale di Francia a Napoli. Per me è un grande onore e un piacere di venire in questa occasione perché è una bellissima organizzazione della parte italiana e una memoria che è la nostra memoria del compattimento per la libertà che abbiamo fatto insieme. per me è importante di fare un omaggio a tutti i caduti per la nostra libertà, la nostra libertà europea. È molto importante per me un ricordo di famiglia perché un membro della mia famiglia era con questi soldati ma non è morto. ma per noi era molto importante quando ero un bambino e ho ascoltato molto questi ricordi di questa molto difficile campagna d'Italia. Anche per i venafrani quella del 2 novembre è una cerimonia molto significativa. Rafforza questo legame che da anni c'è con i francesi, la presenza del console lo testimonia ed è un invito per la pace un po' contro ogni forma di guerra e di violenza che è un po' nello spirito di tutte le iniziative che cerchiamo di portare avanti. Nonostante il lungo ponte l'affluenza ai cimiteri rispetto all'anno scorso è diminuita vediamo come è andata a Termoli. Sole e alte temperature il tempo ideale per una visita ai propri cari dei fonti ma nonostante il clima favorevole e il lungo ponte quest'anno l'affluenza al cimitero di Termoli è netto calo. Lo sanno bene i commercianti di fiori che hanno notato la flessione negli acquisti ma fiori a parte anche per le visite non c'è stata la calca degli altri anni forse perché qualcuno approfittando delle festività vicine al weekend ha deciso di partire forse anche perché ormai la visita ai propri cari la si fa durante tutto l'anno e c'è chi preferisce non andare nei giorni della commemorazione com'è l'affluenza quest'anno? meno degli altri anni però continua più ieri ogni santi o oggi? più ieri che oggi forse perché la gente lavora? può darsi anche per quello comunque si sente la crisi? si, si sente anche nel settore dei fiori la crisi i prezzi rispetto all'anno scorso sono più bassi dell'anno scorso chi però si è recato al cimitero in questi giorni non ha potuto non far caso all'assenza del traffico che caratterizzava l'area gli altri anni grazie al parcheggio inaugurato prima dell'estate non ci sono stati problemi per lasciare l'auto in sosta che per l'occasione dal primo al 4 novembre l'amministrazione comunale ha deciso di rendere gratuita quest'anno il Camposanto è stato trovato anche più sistemato più pulito e ordinato lo hanno notato i visitatori insieme alla novità degli annaffiatoi e delle scope comuni pulito tutto in ordine brave e invece i fiori il prezzo dei fiori com'è quest'anno come l'anno scorso si possono comprare migliori degli altri anni molto molto migliori più pulito pulito anche più organizzato nel senso gli annaffiatori con la scopa che si poteva pulire tutto perfetto e in chiusura l'appello per un cucciolo che si è smarrito nella zona della nuova comunità a Ferrazzano lo vediamo in foto è simile ad un pastore tedesco completamente fulvo con il muso nero ha un collare bianco ed azzurro chi lo abbia trovato o ne abbia notizia come sempre può contattare la nostra redazione ed è tutto anche per quest'ultima edizione del nostro telegiornale grazie per averci preferito a tutti voi una cordiale buonanotte